Anche per la stagione balneare 2020 la costa di Barcellona mantiene il record negativo del tratto di mare più lungo e inquinato della provincia ad esclusione di quella di Messina. Restano infatti sempre due i tratti che non risultano balneabili per inquinamento per una distanza di 800 metri da Villa Crisafulli scarico troppo pieno a 400 metri ad ovest e poi da 400 metri ad est della foce del torrente Termini. Il decreto regionale dell'assessorato alla salute del 19 e marzo scorso relativa alla stagione balneare 2020 ha confermato per buona parte i dati del 2019 e del 2018. Solo Messina supera la costa del Longano con tre tratti di mare inquinati e riferito ai 6.400 metri dalla foce del torrente L'Alderia a quella del torrente Portalegni e si allunga di 630 metri da 50 metri a sud dall'ospedale Regina Margherita a 100 metri a nord della foce del torrente Annunziata, entri altri 200 metri da 100 metri a sud a 100 metri a nord del canale del lago piccolo di Torrefaro. Confermate altre zone dell'area tirrenica torrente Boncoddo per 200 metri tra Rometta e Spadafora poi per 100 metri dalla foce del torrente Senia di Venetico alla foce del torrente Fondachello di Valdina per 250 metri a Torregrotta per 300 metri dalla foce del torrente Fondachello. Dopo Barcellona c'è la costa dei Nebro di 200 metri a Sant'Agata Miritello nel Vallone Callamelata e a Santo Stefano di Camastra 400 metri dalla foce del torrente Ciaramisello. Anche la zona ionica un tratto inquinato nel comune di Giardini Naxos per 400 metri dal fiume Alcantara 400 metri a nord dalla foce dello stesso fiume. Nel barcellonese sono interdetti perché interessati da emissioni ci sono sbocchi di canali, fiumi, torrenti e depuratori. A Barcellona un tratto di 100 metri ad ovest del torrente Mela, a Termevigliatore 200 metri ad ovest del torrente Termini, a Falcone 100 metri ad est del torrente Licona, allo scarico del depuratore di Oliveri e infine a Oliveri dallo scarico del depuratore a 100 metri ad ovest del torrente Licona.